Sto facendo la terapia di dialisi peritoneale, la faccio nella notturna perché avevo una neflite cronica autoimmune e quindi ho dovuto fare questo intervento. In conseguenza a questa terapia l'ospedale mi ha dato l'uso del Dottor Plus che è effettivamente molto funzionale a mio parere in quanto ci prende il peso, ci prende la pressione, ci prende la glicemia, tanto che spesso e volentieri io mi sono alzata con la pressione alta, dopo un quarto d'ora venti minuti vengo chiamata dall'infermiera che mi dice come mai questa pressione? Rimisuriamola, come mai questo peso? Ripesiamoci. Questi controlli li dovevi fare non ti dico quotidianamente ma settimanalmente in ospedale, perciò hai una vita migliore in quanto lo puoi gestire tu da solo a casa come fai con la terapia. Questo servizio è stato molto semplice da capire perché diciamo che devo dire la verità è gestito molto bene dagli operatori telefonici, quindi quando c'è una criticità io posso chiamare e loro mi istruiscono a dovere e riesco a ristabilire tutto la funzionalità dei macchinari. Per esempio ora io devo partire, vado in vacanza e vado a Londra a trovare mia figlia, sarò lì un mese, mi porterò, anzi l'ospedale mi spedisce il macchinario per fare la dialisi peritoneale lì in logo e però mi porterò anche i prodotti del Dottor Plus, così sarò sempre sotto controllo.